In queste puntate 2009, Udin, capitale del rock Novi regoli squinti dal smog Lissorosis di Persie, a calendi donna Gli appuntamenti delle settimane Il siom di Tain Jovins è manco il Jovins Di non perdersi nanti e un Dalli grand concerti che arriveranno In questi stati in Italia C'è un po' di Friul Che stanno a diventare realtà A Udin di fate arriveranno In un mese e mese che si presenta Pardabons Flandorovus Noi è manco il che Madonna Bruce Springsteen e i Coldplay Abbiamo chiesto il stadione di musica I Massi in Slivey e sarà proprio Madonna La più grande stella del pop mondiale Che sarà il Stato di Friul Io ho i bei series di lui Corsò Sticking a Sweet Tour Che al metà d'un più di 25 anni di carriere Una settimana dopo Io ho i bei 23 di lui E sarà la volta dal boss Bruce Springsteen Il Chianta Storia di Americhe Profonde Di Iro e di Vue Che di anni di carriere Andi a passe 35 Ma che ha fatto di colone sonore Con il suo Working on a Dream E l'affermazione elettorale Dal Presidente Obama Restante al rock Assierà che sti stati grandi musiche Saranno i Coldplay La band di più grande successo Dei nuovi sceni musicali inglesi Che sono diventasse ormai Un fenomeno planetario E che saranno a Udin Lunis e i 31 di avost In te uniche date italiane A proposito di grande musica E anche se di un altro igienar Un non di sicuro Manco il popolare Ma che ha scognito Fatti due spettacoli In Sala di Ace Per contentare il pubblico di Neis Alla è Giovanni Solima Che con la sua personale Interpretazione dal violoncel Alla è un dei più presiati Musicisti d'Allianz di Vue La sua esibizione È stata proponuta Intensuaggia dai Concerts Aperitifs L'interessante cartellone Che l'orchestra filarmonica di Udin E porta in denan di Ainz Con un simple new success Di pubblica e di critica Di queste settimane E sono cambiati Se le regole Squintri dall'inquinamento a Udin Il Comune ha di fatto deciduto Di applicare Novi limitazioni Sul traffic Dentri dai circuiti In osservazione Dal plan di azione comunale Previudute direttive regionale Dal 4 di marzo 2005 Che appareggiate Le smisure Antismog Le smisure Per migliorare La qualità dell'aria Di fatto E sono un preciso Dove Fissate Per lecce Dopodiché 3 volti Che i limiti dei polvini Se vanno Per l'ora Dei 50 microgram Per m3 La nuova norma È prevista Che si fermino Di furde cinglie De circolazione I veicoli Euro 0 Euro 1 Euro 2 I diesel Centro filtro Quintri da inquinanza E tutti i motori Per l'ora Dei 2400 cm3 Questa soluzione Che ha per poi Dei starghi alternati Che ieri Stati sdoprati Dal 2001 Inca Fino all'anno passato In lì Mi si ricordano Gli stori Dei snufa Bina ora Fino agli 6 di sere Dove che È ben visato Che non c'è Rischialdamento Poi essere piatti Per cutiare Gli stori In D Ma scoglieri Sì riducati A 10 Per tutti Che ricordano Di informazioni Immerte Si può L'avvio Di tal sito www.comune.udine.it O clamali Dei polizia Municipale Che ha il suo Centrolin Al numero 0432 271 333 Rose di Persia È il titolo Dal calendario 2009 Di calendario Di donna Manifestazione Dedicata A arte E società Che ha l'altro Cine Cine E Giappone Che stanno Dal 5 al voto di marzo E vignorata mesade L'identità culturale e sociale Dei femmini Di cui muoio in Iran Un paese Un paese bom di avere un premio Nobel Dal pass Femine Che anche Siringe Badì Ma di far valere Di resta famiglia Di lavori Di mari Fimini E niente La metà Di chi Dei omni Per 4 di Odin Fasera il ponte Su questa situazione Con Tavoli Stare Ordi Forum Film Spettacoli e concerti. Ospiti saranno registri come Maniak Bari, protagonista dell'Inaugurazione che farà look al visionario Joibe ai Cin di Marcia e Six di Sere, attori come Fatemeh e Motamed Haria, stelle del cine iraniano protagoniste dal film Ghilaneh che stai inviudendo in queste immagini, scrittori come Golita Raghi e femministe di teatri come Paris Saberi che con il suo spettacolo Flying Shams e sierrarà la rassegna domani ai voti di Marcia, giornale delle femmini. Gli appuntamenti di settemane. Il nuovo balletto spagnolo Rojas y Rodriguez mette in scena il spettacolo Sangre Flamenca al teatro Newf l'1 e i 2 di Marcia ai snuf ma con un quart di sere. Il patrimonio dei giardini storici della città di Udin, ora il tema delle conferenze del professore Francesca Venuto che si tignarà Marta al 63 di Marcia ai Cinque Miege da Spomisdita al Salon di Palazzo Belgrat in place dal Patriarchiat. Grazie a tutti.